Mi avete risposto in tantissimi la storia del biberon, vi ringrazio innanzitutto tantissimo perché a noi si è rotto quello che una volta raggiunta la temperatura ideale di 37 gradi squilla, ci è rimasto solo l'altro che non ha la temperatura fissa quindi devi andare un po' a sentimento. Ovviamente noi abbiamo il termometro portatile per vedere se raggiunge più o meno i 37 gradi e ogni volta lo faccio troppo caldo quindi poi lo devo raffreddare ma poi è troppo freddo quindi poi lo devo riscaldare poi lo raffreddo, ci metto mezz'ora ogni volta poi quando Camilla piange che lo devo preparare in fretta ovviamente ci metto più del dovuto e quindi ancora non mi fido ad andare a intuito sulla temperatura, ho bisogno del termometro solo che ci metto veramente una vita. Quindi dobbiamo innanzitutto ricomprare lo scalda biberon con la temperatura giusta. Che dire Andrea Zenga veramente un papà perfetto ed ecco il biberon in questione, chiudiamo il video così, a un prossimo, ciao!